Luzia Revisore N. Zainosa Revisore Quello che oggi vi voglio raccontare non è soltanto un'ipotesi. Quello che oggi sono qui a raccontarvi è storia. E' una storia difficile, la storia tra la convivenza tra gli alberi e noi, esseri umani, che dobbiamo condividere un pianeta, un pianeta che in questo momento soffre e soffre soprattutto a causa nostra. Oggi ci sono 3.000 miliardi di alberi sulla Terra, noi siamo soltanto 7,5, significa che abbiamo circa 400 alberi a testa più o meno. Ora, con la deforestazione, con l'uso del suolo per fare le culture intensive, piuttosto che per andare a cercare minerali, a cercare risorse, noi oggi perdiamo 20 miliardi di alberi all'anno, a fronte solo di 5 miliardi di alberi piantati ogni anno. Significa che mediamente perdiamo 15 miliardi di alberi ogni anno. Sono due alberi a testa. Sembrano tanti? No, non lo sono. Sono 200 anni a questo ritmo, prima che venga abbattuto l'ultimo albero. Ma c'è di più, perché potremmo fermarci qui, sarebbe già abbastanza grave. Ma facciamo un altro danno. Noi produciamo un'idride carbonica e non solo respirando, la produciamo spostandoci, la produciamo con le nostre industrie, la produciamo per quasi tutto quello che facciamo. e sono 4 tonnellate a testa ogni anno che entrano in atmosfera. Purtroppo per noi gli alberi riescono a sottrarre, a sequestrare dall'atmosfera soltanto 15 kg di anidride carbonica ogni anno. Significa che a noi, per riuscire a sopperire al danno che facciamo noi con le nostre attività antropiche, servono addirittura 350 alberi per ognuno di noi. non sono tanti, perché significa che abbiamo soltanto 50 alberi di margine e ai due all'anno in meno che vedevamo prima, purtroppo, sono solo 25 anni. Ora, in questo nostro piccolo esercizio matematico, in realtà abbiamo dimenticato un'altra grande fonte di sottrazione di anidride carbonica, che sono gli oceani. Gli oceani contribuiscono per il 50% a sequestrare l'anidride carbonica che noi emettiamo in atmosfera. Sì, è un'ottima notizia. Stiamo però dimenticando all'interno dei nostri conticini, qua fatti tra noi, un altro grosso fattore. Non siamo soli. Non siamo soli perché noi abbiamo tutta una terra di cui dovevamo essere custodi. Altre piante, animali. Prima si diceva che perdiamo mille specie ogni anno. Mille specie che appunto ci hanno messo milioni di anni per arrivare a noi e con il nostro impatto noi le stiamo distruggendo. Forse non era proprio questo che veniva inteso dalla Genesi quando diceva che dovevamo dominare i pesci del mare, gli uccelli del cielo. Non era questo. Perché poco dopo ci dice che dobbiamo essere custodi di questo giardino in cui siamo inseriti. Ecco, se noi andiamo a vedere quello che siamo in biomassa, noi siamo lo 0,1. Niente. Tutti gli animali sono il 2,7%. Le piante addirittura, piante tra alberi e vegetali bassi, sono 97,3. Noi con il nostro 0,01 influenziamo la vita di tutti gli altri. È una responsabilità enorme per noi. Siamo responsabili di questa terra. Confuso diceva che il momento migliore per piantare un albero è vent'anni fa. E lo prendo a posto adesso perché appunto era vent'anni fa il momento buono. Il secondo momento migliore è adesso. Ed è adesso perché non abbiamo più tempo. Non abbiamo più tempo perché se ci guardiamo intorno quello che vi ho raccontato è storia. È storia perché l'anidride carbonica sta aumentando, non è costante. L'abbiamo già passato quel punto. Siamo già oltre. È per questo che quello che voglio chiedervi oggi, e ve lo chiedo con il cuore in mano a ciascuno di voi, è di darmi una mano a cambiare le cose. Nella gift bag che ognuno di voi oggi ha trovato sulla sua sedia ho messo un sacchetto contenente dei semi. Ci sono semi di piante diverse. Io vi chiedo di darmi una mano e di piantarli, piantarli nel posto giusto, piantarli dove possano diventare degli alberi forti, grandi, che possano aiutarci a dare un futuro, non a me, non a voi, ma a chi amate, ai nostri figli, ai nostri nipoti. Perché è questo il nostro compito, è custodirla per poterla portare intatta alle generazioni che verranno. Grazie.